Nascita di Roma La fondazione La leggenda Nacque allora la tradizione secondo cui il re della città di Alba Longa, Numitore, era stato cacciato da suo fratello Amulio che ne aveva preso il posto. Quest'ultimo aveva poi obbligato Rea Silvia, figlia di Numitore, a diventare sacerdotessa. In questo modo le avrebbe impedito di sposarsi e avere figli. Rea Silvia però rimase incinta del dio Marte ed ebbe due gemelli, Romolo e Remo. Amulio ordinò allora l'uccisione dei due neonati, ma il servo incaricato non ubbidì e mise i bambini in una cesta che abbandonò nelle acque del Tevere. I gemelli vennero salvati da una lupa che li allattò finché furono raccolti da un pastore di passaggio Faustolo. Da grandi Romolo e Remo seppero la loro origine, uccisero Amulio e restituirono il trono a Numitore. Decisero quindi di fondare una nuova città presso il Tevere, ma quando si trattò di sceglierne il nome e chi fosse il primo a regnare, i due ebbero uno scontro. Remo sfidò il fratello e Romolo lo uccise, diventando il primo re della città. Era il 21 aprile del 753 avanti Cristo. Nascita di Roma Sui colli Campidoglio e Quirinale, nell'VIII secolo avanti Cristo, erano sorti villaggi di Sabini. I latini erano invece stanziati sul Palatino. La scelta di vivere sui colli presentava un doppio vantaggio, consentiva una maggiore facilità di difesa e permetteva di evitare le aree paludose delle pianure circostanti. I villaggi erano poco più che insiemi di capanne e i loro abitanti praticavano la pastorizia e l'agricoltura. Ciascun villaggio era organizzato in modo autonomo, anche se Sabini e i latini erano accumunati da religione e usanze simili. All'epoca, il primo nucleo della città di Roma raggiungeva i 200 metri quadri ed era fortificato con una palizzata di legno. Il passaggio definitivo avvenne quando i villaggi di Latini e Sabini decisero di bonificare le paludi nelle valli tra i colli. Dopo la bonifica venne pavimentato uno spazio comune adibito ai commerci, che venne chiamato Foro e i villaggi si unirono in un'unica città, Roma.